Buongiorno a tutti, mi chiamo Peter, Pietro in italiano, e sono andato a parlare in Lombard, Lombard, che è... cosa è Lombard? Disarrivi altri. Lombard è una lingua neolatina occidentale, compagno del francese, del spagnolo, del portoghese, del catalan, che l'è parlata in un grosso tocco dell'Italia del nord, dicendo per essere più precise, in della Lombardia, ovviamente, in del Piemonte orientale, in un tocchelin del Trentino, e in tutta la Svizzera italiana, dunque, il canton Tisin e un tocco del canton Grison, di Grison. L'è, dunque, l'è parlata in un bel tocco di terra, purtroppo, l'è detto che l'è andata a sparire, perché la gente, la gente che la parla, sanno e credono che la sia una lingua, pensano che la sia un dialetto, e dialetto è un termine, è una parola che in Italia l'è un significato positivo, perché la lingua è il dialetto, e il dialetto è, purtroppo, è una lingua di serie B. E dunque, l'è un'importanza più di tanto, l'è considerata una lingua del passato, una lingua del vecchio, una lingua anche un po' racista, purtroppo, l'è un'importanza più di tanto, l'è un'importanza più grave, è che i nonni e i padri che parlano di Stamminga in Lombard, ha il sole utile sul fuoco. E dunque, se riccia che fra una quale desena d'anni, il Lombard sarà arrivato all'estinzione. Mi pensi che sia proprio un peccato, per tante ragioni, prima di tutto perché le sbagliate pensano che sia un dialetto e che le siano di lingue di serie A e di serie B, è una cosa che la Stamminga è bene. E poi perché pensi che sia sbagliate, che sia proprio una disgrazia, fa morire una lingua che ha un valore culturale, nemmeno in Italia, sai quanto è importante alla cultura, ma anche una lingua la fa cultura, e non ha la lingua del Stato, ma anche la lingua regionale. E dunque, mi ho scominciato qualche anno fa a imparare il Lombard, perché mi sapevi no, mi parlavi un italiano, e lo parlo anche abbastanza bene, diciamo, essendo un'altra lingua italiana. Lui imparava che sei di Giamo Grant, e poi ho taccato a parlare e a scrivere, e dunque tu ci dì, mi scrivi e provi a parlare il Lombard, per quel che puoi, per cercare di tenere viva quella lingua qui, quella lingua qui, perché l'unica maniera per tenere viva la lingua, è parlare, le due parole, e in tutte le occasioni che si può, provare a parlare. E mi la parli. anche di Nance a una videocamera, che, insomma, la mia conmiglia risponde. Però, insomma, mi credi che sia una battaglia giusta e che la sia una battaglia bella, e che la vale la pena, che vale la pena combattela. E dunque, vi Nance, speri che insieme a me, che sarà tanta altra gente, che già c'è un po' di gente che l'idrea ha combattuto per il Lombard, e per tutte le altre lingue d'Italia. Perché anche il Piemontese, il Siciliano, il Genoeste, il Napoletano, e via in Sce. Però, mi speri che ne sarà un po' più sé. Mi speri che con quel video qui, un po' di altri, più da interessarsi alla questione linguistica italiana. perché pensi che la sia proprio un po' di lavoro più importante, più se be' per il mio paese, che è l'Italia, per la mia regione, che è la Lombardia, per la mia città, che è Milano. Dunque, in Anse in Sce, almeno per me, più speri che anche gli altri. Ciao!